Buongiorno amici di Deja Vu, oggi abbiamo due ospiti che ci parlano di emozioni, di emozioni particolari soprattutto del mondo dell'infanzia che è un mondo che noi amiamo moltissimo, di cui amiamo moltissimo parlare perché insomma è il futuro. Quindi buongiorno e benvenute, siete due rappresentanti dell'associazione Mercurio, giusto? Raccontateci un po' chi siete. Buon pomeriggio a tutti e grazie per questo spazio che ci state dedicando, io sono Matilde Battistini, segretaria generale di associazione Mercurio, che è un'associazione di promozione sociale non profit, attiva a Milano e Lombardia dal 2014, con l'obiettivo di contrastare l'emergenza educativa che penalizza così fortemente i giovani in Italia. Con me c'è Olga Bellini, responsabile del progetto educativo I colori delle emozioni che stiamo portando nelle scuole di Milano e Lombardia. Buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi. Grazie mille Olga, anche a te. Allora, progetto appunto che nasce su una problematica molto molto diffusa purtroppo, molto importante per i nostri bambini, cioè quella insomma di entrare in questa sfera emotiva che soprattutto post pandemia è diventata un mondo difficilissimo. Quindi il vostro progetto in realtà come lavora su questa problematica. Allora, innanzitutto il progetto è nato proprio nel pieno della pandemia, durante il lockdown. Lo abbiamo concepito in deatto insieme a Paola Pissomaini, una psicoanalista italiana della British Psychoanalytic Society, proprio per affrontare il momento di massima emergenza in cui il mondo dei bambini è stato improvvisamente stravolto da un nemico invisibile creando in loro un grave malessere emotivo, un disagio profondo che ha tuttora delle ripercussioni molto importante con livelli di ansia e stress allarmanti. Ora che il clima di guerra minaccia ulteriormente, il senso di sicurezza e di protezione rende quindi difficile davvero per i giovani guardare con serenità e fiducia al futuro, siamo convinti che questo progetto dedicato proprio a sostenere e aiutare i bambini a riconoscere e ad affrontare le proprie paure e le proprie rigidità sia importantissimo. Vorrei lasciare la parola ad Olga per che vi possa raccontare direttamente quello che facciamo dentro le scuole ogni giorno e i riscontri che i bambini e gli insegnanti ci danno. Esatto, perché scusate se prima che parli questo progetto coinvolge 500 bambini di quattro scuole di Milano, giusto? Quindi un progetto a larghissimo raggio. Prego Olga. Sì, il progetto che portiamo nelle scuole primarie è un percorso alla scoperta della consapevolezza emotiva che parte da un momento di lettura animata, leggiamo insieme ai bambini il libro Carolina e l'occhio dell'elefante che è un racconto per bambini scritto appunto dalla psicoanalista Paola Somaini, scritto e illustrato perché è un racconto di parole ma anche molto di immagini, di colori che trasmettono appunto emozioni e invitano i bambini a loro volta ad aprirsi e a comunicare il loro mondo interiore. La lettura è appunto animata quindi si compone di diversi momenti di dialogo e confronto che consentono ai bambini di aprirsi e di confrontarsi tra di loro all'interno del gruppo classe eh con noi del team di associazione Mercurio e con le maestre e eh a seguire ehm proponiamo poi la la parte proprio laboratoriale creativa eh che consente ai bambini di raccontare eh le loro emozioni e le loro paure eh attraverso l'espressione artistica. Eh durante il laboratorio eh li avviciniamo ad una tecnica un po' speciale quella dei blind drawing che è una forma di gioco terapeutico consiste nel disegnare senza guardare il foglio e quindi è un invito a liberare la creatività e la fantasia senza paura del giudizio della della valutazione che spesso è una cosa purtroppo un po' imperante a volte nelle famiglie a volte nella società e quindi questa cosa mi ha molto colpito questa cosa del disegnare senza guardare il foglio secondo me a vostre a volte avremmo bisogno di farlo anche noi adulti. Sì esatto l'abbiamo sperimentato in alcune occasioni in alcuni eventi dell'associazione devo dire che da risultati molto interessanti anche applicato dagli adulti. E quindi voi avete iniziato questo lavoro adesso farete parte anche giusto di una giornata molto importante di un una settimana importante appunto dedicata ai bambini e al gioco. Parlatemi un po' anche di questo. Sì allora grazie alla collaborazione con il comune di Milano e con il garante dei diritti dell'infanzia dell'adolescenza siamo stati invitati a prendere parte a questa settimana speciale tra il 23 e il 28 maggio dedicato proprio ai diritti dei bambini e degli adolescenti con delle iniziative pubbliche le porteremo ai giardini della Rotonda della Besana e al MUBA al Museo dei Bambini proprio durante la giornata cittadina del gioco iniziative che sono finalizzate a creare nei bambini e nei ragazzi un senso d'appartenenza alla città e ehm iniziative che sono state volute fortemente anche dal comune proprio per la volontà di trasmettere anche la vicinanza con i mh le fasce più giovani no della popolazione cittadina in modo che possano sentirsi parte del tessuto o civico e sociale. E voi avete parlato scusa se ti interrotto è una cosa che mi trovo molto importante a sottolineare adesso abbiamo parlato di pandemia però il vostro lavoro adesso si apre nelle scuole anche ai bambini ucraini che arrivano dalla guerra. Esattamente esattamente abbiamo avviato anche azioni mirate per sostenere l'inclusione dei bambini ucraini che si stanno inserendo eh in questo momento nelle scuole milanesi e in collaborazione con il comune di Milano anche momenti di dialogo e di confronto proprio per capire quali siano i bisogni reali di questi bambini e mettere a disposizione le nostre competenze laddove necessarie. Siamo convinti che il linguaggio creativo, l'arte e la creatività siano strumenti importanti e potenti per superare le barriere, le differenze, quelle linguistiche in particolare in questo momento e siamo felici perché abbiamo già iniziato ad offrire il laboratorio ai primi bambini ucraini che si sono inseriti in una delle scuole no in cui stiamo lavorando e appunto farli comunicare con il disegno e il colore. È un linguaggio universale questo. Per immediato si avvicina molto. E questo trovo che sia molto bello sotto questo aspetto trovo che sia anche molto bello per i bambini nostri italiani che spesso soffocati io dico no dalla tecnologia da tutto questo magari perdono la capacità di espressione che con i colori il mondo dei bambini deve essere un mondo colorato non deve essere un mondo insomma in bianco e nero come purtroppo ultimamente per le cistitudini varie abbiamo avuto. Comunque tutto bello questo mondo di espressione di colori così ma veniamo anche a una cosa molto importante no? Voi avete attuato un crowdfunding adesso che noi ci sentiamo no ma di dire di dire di sostenere quindi diteci tutto questa cosa come fare a sostenere l'associazione Mercurio per colorare le emozioni dei nostri bambini. Allora innanzitutto siamo felici eh di aver raccolto nei primi dieci giorni dal lancio della nostra campagna solidale insieme per i colori delle emozioni che potete trovare sul sito www.forfunding.intesa.sanpaolo.com i fondi necessari in solo dieci giorni per donare a trecentosettanta bambini i nostri laboratori creativi. Belli. Ascolto, dialogo, espressione artistica e narrativa quindi davvero manca pochissima il raggiungimento del nostro primo obiettivo e quello appunto di riuscire a donare il laboratorio a tutti i cinquecento bambini quindi vi eh chiediamo di sostenerci e ringraziamo di cuore tutti coloro che vorranno unirsi sul sito di forfunding.intesa.sanpaolo.com digitando nel cerca eh il nome di associazione Mercurio dove possono trovare poi tutte le informazioni per sul progetto e le modalità della donazione. Allora noi vi sosteniamo sicuramente noi adesso daremo voce a questa cosa con un nostro bellissimo articolo e invitiamo davvero tutti quelli che seguono déjà vu che non sono pochi a aiutarci e aiutarvi perché aiutarvi e ad aiutarci a dare colore a questi bambini. Eh è bellissimo davvero complimenti quello che state facendo perché i bambini sono il nostro domani e quindi sono veramente da non da non lasciare in un angolo. Io credo un po' che in questa pandemia si sia state attenti a tante cose e spesso alla sofferenza dei più piccoli no. Questo è un po' mio parere personale e insomma invece loro hanno bisogno di tanto. Complimenti davvero per il nostro lavoro io vi ringrazio eh davvero per quello che state facendo noi siamo a vostra disposizione quindi insomma qualsiasi evoluzione. Grazie mille grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato e e mi raccomando allora. Per i colori delle emozioni. Ce la siamo con voi per un mondo più colorato di cui adesso abbiamo davvero tanto bisogno. Grazie davvero e allora alla prossima mi raccomando. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao ciao. Ciao.